Salve a tutti friends dal vostro supercorris, eccoci qua in quest'altro videuzzo dove parliamo un po' di quello che accade online, ma giusto per farci una chiacchiera ragazzi, due risate D'altronde ve lo sapete, ieri abbiamo fatto una serata epica, sono arrivato sempre quinto, sesto, una volta quarto, cioè Nonostante tutto sono risultati che per molti sono inaccettabili, tutti puntano alla vittoria, a me no, a me mi interessa divertirmi Infatti abbiamo recuperato una marea di punti su LFM dove eravamo riscesi in categoria Iron, la penultima E invece siamo tornati in categoria Bronze e con vista la categoria Silver che se facciamo un'altra serata, fatto bene, possiamo cogliere Ora il discorso qual è ragazzi? Qual è il più grande problema che si riscontra online oggi per un SimRacer? Soprattutto nelle categorie non proprio al top, è assoluta indecenza di chi corre Troppe persone sono in pista e non sanno quello che fanno, lo sappiamo, gente che taglia le curve, gente che esce dai box nella qualifica e si mette in traiettore Gente che non sa manco farsi doppiare o non si sa far sorpassare o farti sorpassare Ma c'è qualcosa che va a peggiorare tutto, tutti i giochi che giochiamo oggi online hanno un sistema di penalità assolutamente vergognoso L'abbiamo visto su Forza Motorsport, l'abbiamo visto su Gran Turismo, l'apoteoso, ho fatto anche dei video Purtroppo su Assetto Corsa Competizione è la medesima cosa Ci sono delle penalità date in maniera troppo troppo leggera per millimetri che tu sei andato largo in una curva E gente che taglia le curve, fa quello che gli pare e non viene assolutamente penalizzata e limitata Tant'è che già ne abbiamo parlato in altre occasioni, ieri l'ennesima gara dove c'è stato questo qua che andava più piano di me Mi ha riuscito a stare lieto tagliando le curve, alla fine mi ha superato, io c'avevo tre reclami, tre segnalazioni Se mettevo le ruote fuori un'altra volta prendevo il drive-thru, ho dovuto rallentare, quindi rinunciare alla posizione, a battagliare in pista Perché io c'avevo le penalità, lui che ha tagliato tutte le curve, è andato dritto tranquillo arrivando quarto Non è la quarta posizione, la quinta, la sesta Il fatto di rovinare delle gare è così, anche a Paul Riccard, penalità date a caso perché tu metti le ruote poco poco sul cordolo Quindi assolutamente inaccettabili ragazzi, parliamoci chiaramente, però purtroppo accade questo In questo video vi faccio vedere l'assurdità, quando io nella stessa curva andavo poco poco largo Prendevo il richiamo e lui tagliava e non prendeva neanche il richiamo E' chiaro che tanta gente che corre più tempo di me sa i punti dove può fare questi sotterfuggi, queste scorrettezze E non essere puniti dal gioco Perché un discorso è che tutti quanti facciamo una curva larga, ci allarghiamo, sbagliamo una traiettoria Non siamo professionisti Ma quando uno per una gara lo fa ripetutamente e apposta Allora vuol dire che sei stronzo e lo fai proprio apposta Quindi queste cose sono inaccettabili Parliamo proprio per far capire alla gente il livello che c'è E magari uno di questi che si vede in questo video la prossima volta ci ripensa Come al solito voglio quindi vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali Lasciate un like, seguitemi sui miei social se volete C'è la mia raccolta fondi per la beneficenza Link in descrizione sapete Chi vuole donare anche un euro a fine mese verrà ringraziato Farò la donazione e apparirete tutti sui miei canali C'è le video di sostegno al canale, abbonamenti, donazioni Il mio canale grazie a voi può crescere e migliorare ancora di più E posso portare ancora più roba da poter recensire e mostrare Partiamo con questo video e andiamo a vedere come In maniera assolutamente assurda Uno taglia tutte le curve e arriva davanti agli altri Fior di piroti che invece le cose le fanno in maniera più adeguata Partiamo Ed eccoci qua ragazzi Il nostro amicone A se vedo Eccolo qua davanti Primo giro Stiamo facendo la parte finale del circuito di spa Quella che taglierà di più Come vedete già in questa curva Lui va ampiamente tutto largo Avantaggiandosi E questo è il punto dove taglierà di più Vedete? Guardate là in fondo Bello, si allarga Taglia all'esterno E il gioco non gli dice niente Vedrete quante volte il gioco Per fare una cosa simile Anche meno grave A me mi penalizzerà Ma proprio in maniera assolutamente Vergognosa Secondo giro Un bel taglietto sul cordolo A Uruji Reguion Come vedete Anche là andato completamente Con tutte e quattro le ruote all'interno del cordolo Ma niente penalità Un bel taglio all'esterno Anche qua in discesa Come vedete Completamente con tutte le ruote fuori dal cordolo Ma va benissimo Qua io in fondo al rettilino principale Lo sorpasso Prima curva Mi butto dentro Mi prendo la posizione Lui cerca di resistere E l'ho sorpassato Ma lui può fare Uruji Reguion pulito No E infatti come vedete Guardate là Taglia tutto all'interno del cordolo Tac Avete visto Taglia tutto all'interno del cordolo Ed esce più veloce Io qua vado fuori pista Perché mi si imbarca la macchina Rientro Gli lascio la posizione Come è giusto che sia Perché Non mi voglio abbandaggiare Gli do la posizione E lui giustamente Che fa La solita curva Tac Tutto all'esterno del cordolo Guardate là Con tutte e quattro le ruote Fuori pista Vedete Ma la cosa bella è perché vi faccio vedere queste cose Perché ora Vi farò vedere Quante penalità ho preso io Per fare la stessa cosa sua Anche un po' di meno Vedete Tutto all'esterno del cordolo Si è buttato completamente fuori Qua il gioco Mi ha dato l'avvertimento Perché mi sono allargato qui Praticamente non guadagnando nulla Guardate lui dietro però Guardate come taglia Per l'ennesima volta la curva È andato a girare Il nostro amicone Qua larghissimo All'ultima curva Ancora una volta L'ho fatto poi io durante la gara Ragazzi Certe volte Ma come vedete Per lui è uno schema ricorrente Tagliare 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 E recuperare Qua vi faccio vedere La lucida che io Anch'io ragazzi Qua ho tagliato Però vedete Mi si è incaprettata la macchina Ho preso un po' il cordolo all'interno Sono il primo a dirlo Può succedere Può succedere di tagliare Se fai un errore Ma non Sistematicamente Vedete Può succedere una volta No tutte le volte Lui qua mi ha iniziato a riattaccare Gli avevo dato un secondo Si è ravvicinato Eccolo qua di nuovo ragazzi Guardate qua Tutto all'esterno del cordolo Guarda là Non è avvantaggiarsi questo Guarda quanto guadagna su di me Ogni volta che fa questo giochetto Guardate Tutto all'esterno del cordolo Io ho due richiami Lui ha tagliato 50 volte Continua a fare il cazzo del comodo suo Senza problemi E questa è l'apoteosi ragazzi Io prendo il cordolo Mi si scompone la macchina Guardate lui dove mi sorpassa Guardate lui cosa fa Lì completamente fuori pista All'esterno Guardate cosa è capace di fare Questo personaggio E di prendersi la posizione Completamente fuori pista Dall'esterno Io qua c'ho tre warning Senza aver tagliato in maniera pesante Nessuna curva Non si sa Il suo signore qua davanti C'ha Non lo so Penso Zero working Da come sta andando Viaggio come un pazzo Tai tutte le curve E non ha problemi Vedi Io mi trovo qua Nell'impossibilità A otto minuti dalla fine Di inseguirlo Nonostante io lo potevo tenere Perché vedete che succede Praticamente se taglio Mezza curva Taglio Se metto le ruote Ovviamente fuori il cordolo Prendo la penalità E lui tranquillo Indisturbato Va E si è permesso di tagliare Tutte le curve Senza problemi E nessuno gli ha detto niente Capite qual è il problema ragazzi Qual è la cosa vergognosa Finisce la gara E sto signore qua Nonostante 25 tagli E è arrivato quarto Vedete Senza penalità Senza problemi Invece mi sono ritrovato Con tre penalità E quindi ha zoppato Nel proseguire Attaccare Non so Penso che non sia normale Ecco i miei tagli Ragazzi Curve in discesa Mi sono allargato Cosa che fanno tutti L'hanno fatto tutti Settemila volte Richiamo Warning numero uno Che poi guadagno Effettivo zero Perché praticamente Sono andato largo Invece di Ho pure perso Però per il gioco Tu hai guadagnato Questo che va dall'esterno E sorpassa la gente dall'esterno Non ha guadagnato Io ho guadagnato Secondo il gioco Il taglio numero due L'avete visto Per il gioco Io mi sono allargato troppo Qua Quando Semplicemente Questo qua dietro Guardate qua Cioè C'è inaccettabile Ragazzi Spiegabile Io mi sono allargato Questo dietro Comunque ha fatto Il comodo suo sempre E noi abbiamo preso I warning Giustamente Per delle cose Millimetriche Capito Cioè per Veramente Delle infrazioni Millimetriche Terzo warning Questo mi ha fatto Proprio rido Uguala prima Guardate lui Dietrime che fa Praticamente Fa la stessa sciamia La stessa traiettoria A mia Mi ha dato il terzo warning Guardate lui Nonostante E' venuto Dietrime là E poi ha tagliato Pure qua all'esterno Guardate io sono rimasto In pista Guardate lui dietro Cioè rendetevi conto A me mi ha dato il warning E lui dietro ha fatto Due infrazioni Cioè se qua Io in questo punto Ho preso il warning Lui meritava il warning Qua perché si è allargato Come me Vedete Completamente fuori La pista E il warning Qua Io sono stato Dentro la pista Guardate lui dove va All'esterno E niente ragazzi Questo non ha mai preso Un warning Cioè non ha mai preso Il penalità Io ho avuto tre warning Per tre allargature Un po' più Vementi Sto signore qua dietro Ha fatto di peggio E nessuno gli ha detto niente Capite dove sta la problematica E niente ragazzi Per farvi vedere Capite qual è la cosa Inaccettabile Non è un quarto Un quinto posto Ma chi se ne frega È un fatto di È un fatto di obiettività Cioè non è possibile Che nelle stesse curve Facciamo le stesse infrazioni Io vengo penalizzato Prendi warning Quello fa peggio di me E non viene penalizzato Cioè vedete Quello è arrivato quarto Sto facendo mille infrazioni E nessuno gli ha detto niente Questo che mi fa ridere Capito perché Non funzionano Le penalità in questi giochi Fin quando non metteranno Un'intelligenza artificiale A gestire queste penalità Sarà sempre così Ci sarà lo sveltarello Che magari ci si allena Proprio a fare queste infrazioni Corre e non ha problemi E tu che cerchi di guidare In maniera pulita Se fai una sbavatura Non la fai con cattiveria E arrivi dietro Perché ci sta lo sveltarello Che sa come tagliare Quello che deve fare È inaccettabile Ragazzi Comunque Questo era solo Per farci una chiacchiera E farvi vedere Come ad oggi Nei videogiochi Non solo non funzionano Le intelligenze artificiali Quando tu giochi Col computer Non solo c'è gentaglio online Sono anche dei sistemi Di penalità vergognosi Fatemi sapere la vostra E ci vediamo Nel prossimo video